Cent'anni che la sua azienda compie, quindi qual è il segreto? Se dobbiamo dire a qualcuno come si fa a resistere così tanti anni ad andare avanti nel tempo, che consiglio gli dai? Devo dire che sono stato molto fortunato, che probabilmente il segreto è di chi mi precede, nel senso che trasmettere di generazioni, io rappresento la terza generazione di azienda, trasmettere tali valori, tale conoscenza, tale passione, tale amore per il lavoro, io penso che il merito sia molto più di chi ti precede, di chi lo vive oggi, quindi diciamo 100 anni per un'azienda di famiglia, delle generazioni è un traguardo molto significativo, il centenario è una roba importante che noi vogliamo trasferire e durante 100 anni noi cercheremo come azienda di dare indietro quello che un po' la città, il mondo pizza, il mondo che ci circonda ci ha donato, quindi ci sentiamo come dire di dover restituire tutto quello che abbiamo ricevuto in questi 100 anni.